Spesso si parla di salute e per me la salute non è una semplice assenza di malattia. Per me la salute significa benessere da un punto di vista non solo fisico ma psicofisico, quindi da un punto di vista fisico, emotivo, mentale, spirituale, perché ovviamente non siamo fatti in compartimenti stagni ma siamo un tutt'uno e con questo ovviamente so che non vi sto dicendo niente di nuovo ma l'aspetto più importante per me è proprio quello di renderci conto che ogni nostro pensiero influenza la nostra salute, ogni nostra emozione influenza la nostra salute. Vi voglio raccontare di un esperimento che ho scoperto insomma ultimamente, in questo esperimento hanno preso 10 scimmie e non so se lo sapete ma le scimmie quando vivono insieme hanno bisogno di avere un capo, soprattutto le scimmie maschio e quello che fanno è lottano finché non hanno stabilito il capo, chi è il capo? Una volta che hanno stabilito chi è il capo la vita di nuovo diventa tranquilla e serena e c'è un ordine e un equilibrio tra di loro e quindi hanno preso gli scienziati queste 10 scimmie e le hanno messe in due gabbie separate. In una gabbia hanno cambiato due scimmie ogni mese quindi ogni mese c'era di nuovo una lotta, litigi, dispute per chi era il capo. Appena la situazione si tranquillizzava più o meno in un mese venivano sostituite di nuovo due scimmie quindi di nuovo la lite ricominciava. Nell'altra gabbia invece hanno sempre mantenuto per un anno intero le stesse cinque scimmie per cui dopo una piccola lotta iniziale la situazione è sempre stata tranquilla. Dopo un anno hanno misurato, hanno fatto degli esami del sangue e hanno misurato i valori di queste scimmie. La gabbia in cui le scimmie sono state tranquille, non hanno avuto litigi tra di loro, le scimmie erano tutte sane. Nell'altra gabbia le scimmie erano tutte ammalate, avevano problemi cardiovascolari, avevano problemi di ipertensione, avevano tantissimi problemi vari e questo mi ha fatto molto pensare rispetto ai nostri ambienti, i nostri ambienti in famiglia, i nostri ambienti lavorativi, tutti i litigi, le lotte che affrontiamo ogni giorno, quanto influenzano la nostra salute.